Eccoci qui, un saluto come state ben ritrovati, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, tipate la campanella Live reaction, il sorteggio, sorteggio che dice discretamente al Milan, che se lo dovrà vedere con la Roma Una squadra italiana, una squadra che da quando è arrivato De Rossi di fatto si è rigenerata Ha perso soltanto con l'Inter e poi ha pareggiato recentemente con la Fiorentina, le altre le ha vinte Ha battuto il Brighton 4-0 l'andata, ha perso 1-0 ieri e dunque una sfida tutta italiana Poteva andare meglio sì, poteva andare magari con Marsiglia piuttosto che ben ficca magari per tradizione non tanto meglio Poteva andare però peggio, quindi secondo me ovviamente non bisogna mai esultare per i sorteggi Però insomma, bella sfida italiana, Milan-Roma Che ne pensate? E vediamo un po' appunto come andrà Si giocherà l'11 aprile e il ritorno 18 aprile tutto in una settimana Quindi sfida soltanto italiana Con il Milan che contro la Roma di Giuseppe Mourinho ha sempre fatto, devo dire, bene Però è cambiata la Roma, è arrivato De Rossi e la Roma ha comunque delle individualità importanti Come Dybala, come Lukaku e nel frattempo è migliorato ovviamente anche il gioco, l'espressione di gioco Però è una squadra con cui il Milan può e deve giocarsela a testa alta Tra l'altro avete visto il sotteggio di Champions, l'Inter avrebbe beccato una squadra molto abbordabile Tra l'altro con la sfida Real City, insomma, il rimpianto per loro, devo dire, aumenta Commentate, lasciate un bel like, iscrivetevi, ditemi che ne pensate E grazie a tutti, ciao, vado a far benzina